Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Perdonate se sto registrando video da camera, però praticamente stiamo facendo il passaggio al computer nuovo e quindi al momento è completamente bloccato e fermo tutto quanto l'ufficio perché stiamo un pochino riammodernando e quindi qualche video lo farò da qui, con la qualità un po' scadente perché la droid cam più di quello non va e soprattutto con questa ambientazione, adesso ho messo un po' i neon rossi per fare un po' di ambientazione e niente, vi volevo parlare un po' di uscite che ci sono state in casa Serpentarium, ma ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Parlando di prodotti Serpentarium, tra i più famosi fondamentalmente che sono l'ultima bomba, l'ultima torcia e anche e soprattutto Sine Requie che come non vi ho mai nascosto è il mio gioco di ruolo in assoluto preferito perché ci ho visto veramente delle novità e non tanto prendere un po' a piene mani da più parti andando a formare qualcosa che è comunque un buon pacchetto, una buona offerta e un buon prodotto ma qualcosa di veramente originale che non mi capitava di vedere da tempo perché fondamentalmente poi tutte quante le ambientazioni fantasy o per i draghi o per una cosa o per un'altra si vanno ad assomigliare, mentre invece Sine Requie è unico voi potete cercare l'apocalisse portata in campo da Sine Requie, i demoni, i mostri, i fantasmi, i zombie e quant'altro ma non riuscirete mai a trovare un prodotto che gli si avvicini anche semplicemente come idea questo ve lo faccio vedere soltanto in anteprima, spero che si veda bene, ma ve ne parlo in un altro video i Randaggi delle Terre Perdute, vedete, libro del Curte ed è il loro primo libro game, libro gioco i libri game cosa sono? da buona tradizione di Jodever con Lupo Solitario che adoro e li ho tutti quanti ovviamente non potrei difermi un nerd se non l'avessi i libri gioco sono dei libri, delle novelle interattive dove siete voi a decidere la strada del vostro personaggio e questo è il primo in ambientazione Sine Requie quindi il primo vero e proprio libro game ambientato nel mondo apocalittico e demoniaco di Sine Requie è scritto veramente bene, è anche decisamente ergonomico c'ha di quelle copertine antiscivolo che praticamente ve lo potete attaccare addosso ed è veramente molto bello perché è scritto bene e tra l'altro io spero si veda qua giù nei ringraziamenti in Cacciatori di Refusi c'è anche il mio nome perché ho fatto qui, questo nomignolo qui perché ho fatto da, mi ha mandato la versione in bozza, il Curte e praticamente gli ho trovato qualche errore, me lo sono letto tutto quanto e gli ho dato anche qualche piccolissimo consiglio, non che ne abbia bisogno comunque questo è il loro primo libro gioco che è scritto poi tra l'altro veramente bene c'è la scheda del personaggio che dovrete andare a compilare ovviamente con tutte quante le caratteristiche qui nel mezzo ho messo il segnalibro che tra l'altro è anche non solo un segnalibro ma è anche una promo che troverete all'interno e poi ovviamente i vari capitoletti sono nel classico stile i vari paragrafi da libro game senza fare spoiler ed è ricco, pieno, zeppo di bellissimi disegni ed immagini un po' come... mamma mia sta parte l'ho adorata corratto? sta parte l'ho veramente adorata ci sono disegni macabri come nel buon stile appunto della Serpentarium e in particolar modo in questo caso di Sine Requie e voi sarete un personaggio che dovrà girare per le terre selvagge insieme al ratto un personaggio pazzo da morire a bordo della loro Willis e dovrete sopravvivere e avrete anche uno scope e una missione che non sarà soltanto fare appunto i randaggi delle terre perdute ragazzi spettacolare primo libro game di Sine Requie non vi deve mancare ma ve lo faccio vedere poi in un altro video sempre parlando di Sine Requie passiamo direttamente a Eretici e Stregoni ragazzi sicuramente rosso sul rosso si vedrà particolarmente male però che il nuovo, la nuova espansione o per meglio il nuovo manuale che parla appunto di Eretici, Stregoni e tutto quello che ruota intorno alle culture pagane soprattutto ma non soltanto perché si parla anche del Quarto Reich infatti vi consiglio prima di leggere questo acquistate i due manuali Sanctum Imperium e soprattutto acquistate Quarto Reich perché trovate tante se no tanti indizi che vi rimandano a quei manuali che poi magari riuscirete a capire un po' peggio ma non sono indispensabili la cosa bella dei manuali almeno al 99% della Serpentarium che sono, o almeno di Sine Requie, sono abbastanza stand alone potete comprare questo senza aver comprato altro però sarebbe come sentire magari parlare del monumento a Washington non saperne niente degli Stati Uniti perché non avete letto prima il manuale quindi forse è meglio prima documentarsi sulle varie ambientazioni e qui si parla ovviamente di tutti quei culti eretici che sono contro la Chiesa quindi il Papato perché lo sapete in Italia il Regno d'Italia non esiste più dopo la Seconda Guerra Mondiale a fine nel 44 dopo il risveglio dei morti al D-Day e quindi il Papa è tornato come carica suprema e quindi la Chiesa e il potere ecclesiastico sono tornati anzi sono più che mai al comando di quella che un tempo era chiamata Italia che oggi è chiamato Sanctum Imperium e quindi si è tornato in una via di mezzo fra una specie di Medioevo ancora però con la tecnologia di oggi perché per quanto non si va più a giro con macchine e le hanno soltanto chi se le può permettere o soprattutto il Papato siamo tornati al cavallo, all'Aratro e ai Templari soprattutto ed è un'ambientazione molto bella in questo manuale si va incontro a tutti quei culti eretici che appunto vanno contro la Chiesa che non si parla soltanto di eresie, stregoni, evocazioni di demoni perché vi ricordo, senza fare spoiler che è una cosa che da quando l'hanno fatta maledetti, alla Serpentarium, mi hanno presa ancora di più e glielo ho detto a curte il bello è che gli zombie sono l'1% dell'ambientazione perché uno pensa, si ne requie zombie in seconda guerra mondiale e ci sono gli zombie sarà un The Walking Dead faccio un esempio in Apocalisse zombie ambientazione in seconda guerra mondiale assolutamente no gli zombie sono soltanto una piccolissima conseguenza un piccolissimo disguido ma c'è molto altro dietro tipo il regno di mezzanotte il mondo di mezzanotte che sono cose che scoprirete soltanto leggende manuali non a caso in quasi tutti i manuali e anche qui infatti c'è della Serpentarium c'è sempre un burattinaio c'è sempre la figura di un burattinaio che crea burattini che durante e dopo la mezzanotte riescono a fare qualcosa e prendono vita e dicevo come mai ci sono sempre questi burattini poi ho letto il manuale apposito che tra l'altro vi lascio tutti quanti i link in descrizione per andare ad acquistare e dà una spiegazione quindi c'è molto più dietro agli zombie ci sono demoni ci sono fantasmi ci sono leggende che diventano realtà e ci sono soprattutto cose inspiegabili e fra queste cose inspiegabili e non ci sono questi culti eretici di stregoni che effettivamente hanno trovato la maniera di evocare più di 72 demoni e il male è sceso sulla terra sotto forma di potere arcano trasformato appunto cioè canalizzato da questi stregoni che ne fanno utilizzo e di cui ovviamente il santo uffizio fa di tutto per dargli la caccia e gli inquisitori per metterle in rogo quindi cose già viste e riviste nell'ambientazione del santum imperium ma la cosa bellissima è che qui si va anche in altri tipi di culti dove non c'è soltanto il culto del demoniaco o dello stregone che utilizza incantesimi pagani per andare un po' a mirare quella che è tra 20 virgolette la pace del santum imperium tra l'altro proprio pace e cercata a caro prezzo ma la cosa bella è che ci sono altri culti tipo il culto di albigesi iconoclasti e molti altri che poi tra l'altro alcuni sono storicamente esistiti tipo gli iconoclasti sono quelli che non cioè hanno una credenza in un dio superiore e tutto quanto ma sono completamente contro la chiesa quindi distruggono ogni opera ogni scultura ma anche distruggono le chiese cioè burzoomer è il più grande iconoclast a parte lui non credeva comunque a parte questo incendiano distruggono e anche dipinti e cose storiche o statue storiche collegate o che vanno a cercare di mettere sotto forma d'arte la divinità che è un po' alla fin fine offenderla racchiuderla in qualcosa di terreno le vanno completamente a distruggere perché per loro è un grandissimo insulto al dio di tutti noi e ci sono vari altri culti che trovate all'interno del manuale che poi come sempre manuale ricchissimo di informazioni ricchissimo di disegni che sono tra l'altro sempre spettacolari cioè guardate questo zombie che divora viva una persona ma come vi ho detto la cosa bella è che leggendo anche questo manuale come vi consiglio anche i templari sempre del santo un imperio ma andrete a capire sempre di più cioè gli zombie sono la base cioè se se volessimo paragonare Sine Requiem a un videogioco gli zombie guardate bellissima tra l'altro questa immagine dell'inquisitore che dà fuoco a uno gli zombie sono veramente l'un per cento paragonato a un videogioco sono i mobbettini che trovate a giro da ammazzare che vi danno un punto esperienza per passare di livello perché quello che c'è dietro a Sine Requiem la realtà è veramente molto più grottesca e vi rendete conto che gli zombie sono soltanto una piccola conseguenza di quello che si muove nel nostro mondo dopo la seconda guerra mondiale e come sempre ragazzi cioè cose veramente mai sentite che potevano nascere soltanto da due menti geniali come quella di Kurt e Moro per un gioco che secondo me è il top ma non lo dico per fare le chinage e tutto perché lo sapete la mia meditazione preferita non è Sine Requie è Alien però a livello di gioco di ruolo vi sfido a trovare qualcosa di più originale di Sine Requie vi sfido passiamo poi all'ultima torcia con anche qui la nuova avventura la tirannia delle idre e poi di qua c'è ovviamente il bestiario della tirannia delle idre che sono gli ultimi manuali spero si vedano perché controluce così spero si vedano bellissimi usciti ed è un'avventura scritta da Dal Moro per personaggi dal livello di Eshinsu quindi non è un'avventura per personaggi di base appena creati perché veramente ci saranno delle sfide veramente molto grandi tutta quanta ambientata nel 300 virgolette nell'underdark dell'ambientazione dell'ultima torcia che vi ricordo essere la loro prima ambientazione sempre della Serpentarium la loro prima ambientazione fantasy e anche qui si ritrova tanto del concetto di Sine Requie perché sono sempre veramente macabri grotteschi infatti tutti quanti i loro giochi forse l'ultima torcia un po' meno ma tutti quanti i loro giochi sono sempre veramente da bollino rosso nel senso non bisogna essere deboli di stomaco e persone facilmente impressionabili perché sono giochi dove ci sono veramente spesso ci sono anche parolacce insulti bestemmie quindi razzismo poi da in seconda guerra mondiale con Raik che ha vinto la guerra ve lo potete immaginare quindi ci vuole un attimino di testa per poterli giocare poi soprattutto per il contenuto che si va a trattare e la loro variante fantasy fantasy eroic epic parecchio è veramente molto bella in questo la tirannia delle idre che ci vede andare sotto terra in quello che è che ha preso possesso di quelle che un tempo erano idre più pacifiche che cercavano comunque di riconquistare il mondo per il loro dio serpente questo tiranno si è impadronito del potere invece vuole portare a morte e distruzione non soltanto nel sottosuolo quanto anche nelle terre superiori quindi toccherà a voi andare ad affrontare combattere distruggerli e poi ovviamente come sempre c'è manuali stramega ricchi di schede e con dei disegni che sono veramente spettacolari guardate questi elfi delle lacrime di sangue ad esempio e poi tutte quante le schede da utilizzare in gioco quindi comunque un altro manuale di espansione per l'ultima torcia veramente molto importante poi ovviamente anche dei promo con la scheda dei caverniani che sono delle specie di uomini di neandertal che vivono lì nelle profondità molto rudimentali ma fondamentalmente grandi guerrieri e questa è un'altra piccola aggiunta che trovate sempre nel manuale che poi sono ricchi di contenuti perché ci mettono sempre promo spillette ci mettono un casino di roba che veramente vai a comprare un prodotto finito e spettacolare e poi per arrivare a un altro prodotto che io amo da morire che è l'ultima bomba fuga da Zalcatra che praticamente sarebbe una specie di Alcatraz infatti vedete questo maialone come è vestito ricorda molto il duca di New York il numero uno di fuga da New York appunto con Iana Pliskin Cart Russell e in questo modulo d'avventura dovrete andare nella prigione di Zalcatra che fondamentalmente è Alcatraz che vedete qui dietro perché l'aeroplano presidenziale che il presidente nell'ambientazione è un elfo è caduto qua nel mezzo e voi a mo' di Iana Pliskin dovete entrare all'interno per andare a liberare e vedete che le varie zone sono comandate dalle varie bande dove ci sono i simboli quindi dentro questa pigione di Zalcatra c'è il presidente rinchiuso la vostra missione è atterrarci andarla a prendere e portarlo via prima che qualcuno se lo pappi vivo e anche questa volta nella loro variante post atomica e anche molto Mad Max è veramente molto figa perché io prima di leggere poi ovviamente di qua c'è anche il bestiario io prima di leggere l'ultima bomba ero sempre molto restio a mettere nel Mad Max nell'ambientazione post atomica metterci il fantasy cioè non ce lo vedo l'elfo il nano il goblin no ragazzi o il drago cioè cosa ci fa un drago mentre c'è quello con la macchina tipo Mad Max l'interceptor e magari un goblino con una moto piccola che salta e ammazza la gente rapina a mo' di riders non ce lo vedevo tanto e invece sono riusciti anche questa volta a stupirmi e a creare un'ambientazione fantasy nel post atomico veramente spettacolare ed è una loro un'altra loro variante di gioco perché loro hanno il gioco horror il gioco fantasy il gioco post atomico e come gli ho detto tante volte poi non solo perché hanno anche un altro gioco horror l'alba di Cthulhu che vi ho già presentato e hanno anche anime sangue che è un'altra cosa fantasy un po' strana loro gli manca veramente glielo ho detto una volta di farsi il loro gioco western horror tipo Deadlands e poi hanno fatto tutte le ambientazioni possibili immaginabili perché sono veramente autori pieni zeppi di risorse e a me lo sapete piacciono da morire perché tutti i loro giochi trovo che siano geniali non siano scopiazzature non c'è nemmeno un'idea base di un altro gioco che poi vanno a riprendere hanno veramente tanta inventiva e secondo me la bandiera dell'Italia in ambito creatività e soprattutto giochi di ruolo la portano alta al massimo livello e sono felice più che mai di collaborarci perché ve l'ho detto non è tanto il fatto che a me ad esempio anime sangue non piace lo dico onestamente così faccio vedere che non è da una parte mi vado un pochino a esprimere bene benissimo nel caso di Senerecchi e Cadore da un'altra parte dice anche un altro prodotto che non ti piace no a me anime sangue non piace mi hanno dato il manuale l'ho letto non mi piace ci farò un video dove spiegherò tutto quanto però non mi piace come ambientazione però tutte le altre che hanno fatto Amigar manda a morire sono veramente geniali perché riescono sempre a tirare fuori il meglio dalla nostra fantasia e dalla loro soprattutto creatività quindi ringrazio ancora una volta Serpentarium Kurt e Moro per i prodotti offerti e ragazzi primo link in descrizione per dove andare ad acquistare e mi raccomando veramente ci hanno un sacco di roba provatesi in Erequie poi vi autorizzo a prenderlo e a spaccarmelo sul gruppone se non vi garba Corridan troviamoci te lo rompo in testa io sono convinto che vi innamorerete di quel gioco anche se non vi garba il tema horror zombie e gli zombie sono l'1% ve l'ho detto sono una piccolissima conseguenza ma gli zombie sono l'ultimo dei problemi di Sine Erequie veramente ed è uno spettacolo fatemi sapere un po' cosa ne pensate e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi